Questa è un'idea di Nelson Mandela, uno degli ultimi grandi uomini del nostro secolo che ha detto che grazie allo sport si unisce il mondo e questo stiamo facendo in effetti qui a Napoli. Mettiamo a disposizione delle realtà sportive, quindi con degli ambassador che sono dei nomi importanti di tutte le categorie sportive poi degli psicologi, degli esperti di sport che si mettono a disposizione di questi bambini. Quindi i bambini vengono scelti, hanno delle attività sportive che non è il calcio ma può essere lo judo, sono tanti sport differenziati che fanno sì che li mettono a conoscenza delle loro proprie possibilità in un mondo nuovo. La fondazione Laureus Sport for Good Italia Onlus dal 2005 è impegnata nelle situazioni di disagio giovanile che affronta attraverso attività sportive e percorsi di sostegno educativo e psicologico per sostenere e rafforzare ragazzi e bambini che provengono da contesti sociali differenti attraverso i valori degli sport di squadra. Il progetto per la stagione sportiva della sede di Napoli della polisportiva Laureus da quest'anno coinvolgerà 270 bambini e ragazzi fra i 6 e i 18 anni con una durata triennale nelle aree urbane di Forcella, Soccavo, Bagnoli, Avvocata, Scampia e Piscinola con 5 differenti discipline sportive come basket, futsal, ginnastica artistica, judo e vela e coinvolgerà 5 scuole, una cooperativa sociale e 7 associazioni sportive con un costo complessivo annuale di 215 mila euro. È un'altra bella esperienza della nostra città, la fondazione Laureus che offre una importante opportunità soprattutto per i bambini delle periferie. Saranno 270 i bambini coinvolti in diverse discipline sportive insomma è un bel esempio di come una cooperativa può mettere a disposizione la propria esperienza, la mette a disposizione delle scuole e dei quartieri più difficili.